La Sive abbiamo cominciato a guardarla, nel senso che chiaramente l'asticella dell'obiettivo mano a mano si alzava. Siamo contenti perché comunque non ce l'aspettavamo. Siamo sempre rimasti uniti, anche quando ci sono stati degli errori individuali c'è sempre stato il compagno pronto ad aiutarti, quindi questo alla fine fa la differenza e si vede. Lo abbiamo visto, ce la possiamo giocare contro. Non è facile, però ci proveremo. Ci godiamo questo momento e andiamo avanti. Abbiamo l'intenzione e tutta quanta la volontà di riportare uno scudetto giovanile qui a Roma. C'è soltanto una cosa che ci dobbiamo dire, ci dobbiamo massacrare ragazzi. I complimenti non vanno fatti alla società, allo staff vanno fatti ai ragazzi, prima di tutto che si sacrificano tutti i giorni, mettono sempre il massimo impegno, lavorano di squadra e la cosa che ci fa più piacere senz'altro è che sono veramente attaccati al progetto e alla Roma nuota, questa è la cosa che ci fa alla fine di tutto quanto più piacere. Build arms! Build arms! Build arms! Build arms! Find! You can! Build arms! Build arms! Vibrum North! Grazie a tutti.